vai allora bella l'idea della spiaggia però bellissima l'idea della spiaggia soprattutto riapriamo i locali riapriamo i locali è una cosa carina e non solo bar non si può solo bere cazzo abbiamo bisogno di musica qua però è bello però è bello il fatto che ci siano i servizi che ci sia la spiaggia che ci sia il campo da calcette quello è molto carino riapriamo i locali e non fino alle 2 non che chiudiamo il Deore fino alle 2 che cazzo chiudete il Deore fino alle 2 comunque ci vorrebbero più locali dove fanno musica dal vivo grazie grazie arrivederci ciao torino beach torino beach torino beach torino beach torino